Cambiamo argomento, tornare dopo 25 anni a muovere la mano persa da piccolo. È successo a un giovane altoatesino, primo caso in Italia, grazie a un arto bionico all'avanguardia. Roberto Morelli. Christian Mantinger, giovane altoatesino e gran lavoratore, ha perso la mano in un incidente quando aveva due anni e da allora ha sempre indossato una protesi dal semplice valore estetico. Sarà lui il primo in Italia, grazie all'ausilio di uno dei pochi centri specializzati del nord-est che si trova a Dobbiaco, a usare quella che è l'avanguardia mondiale fra le protesi bioniche, a comandarle ai muscoli del braccio e immancabile nel 2015, una app per telefonino e tablet con la quale le si può far fare di tutto, da un'energica presa ai più comuni gesti quotidiani. Il prezzo della protesi è alto, 65 mila euro circa, ma grazie alla decisione di una commissione sanitaria speciale gran parte dell'importo è stato coperto dalla provincia. Siamo fortunati da questo punto di vista lì perché effettivamente anche per le cose non standard l'azienda sanitaria, la provincia viene in conto al paziente. Inizialmente c'è ovviamente un pochettino di scetticismo per quanto riguarda una fornitura con questi costi ma quando poi si riesce a giustificare con il medico e il paziente perché il passaggio ad un ausilio di questo genere allora per fortuna il buon senso prevale. Il semplice aprire o chiudere le dita o poter mangiare tenendo contemporaneamente coltello e forchetta gesti assolutamente inediti per Christian, resi possibile ora dalle nuove frontiere della tecnologia dopo 25 anni di attesa riuscire a muovere la mano, la sua gioia è palpabile. È strano, per me è una nuova cosa, è un po' diverso tutto, anche se penso adesso a muovere la mano, si muove qualcosa è molto... mi fa felice anche.